1, 2, 3, 4 Che cosa puoi fare se no che cosa? Puoi prenotare tutta la tua vacanza Senza uscire manco dalla tua stanza Fai tutto che vuoi nelle tue quattro mura Fai tutto scrivendo solo sulla tastatura Scrivi tu un blog o visita il forum interessante Scrivici quello che ti interessa entusiasmante Discuti dei vipo della politica Discuti di una cosa brutta o mitica M-E-R-C-H-A-N-T-I-W-S-M-O-I-T-I-I Il sito migliore ascolta e alzi Noi sappiamo che ti piace